150 gare d'appalto truccate, 120 società coinvolte, perquisizioni e sequesti della finanza in tutta Italia, nel mirino anche Autovia Venete e il commissario per l'emergenza dell'A4. Una metastasi, così il comandante regionale delle fiamme Gialle Bottillo definisce il sistema di corruzione sugli appalti ed esprime indignazione per il danno a cittadini imprese, persone, racconta, si riunivano a tavolino per spartirsi le gare. La concorrenza sleale danneggia le imprese del terziario della regione, secondo le indagini di Confcommercio ne soffrono 7 imprese su 10 che lamentano la riduzione dei ricavi del 25%. Un morto e due feriti gravi e questo il bilancio dei due incidenti accadute oggi in autostrada lungo l'A4 nei comuni di Muzzana e Fogliano, la vittima rimasta schiacciata nello sconto tra un camion e un furgone. In attesa del rientro degli ultimi nazionali, Machis e De Paul prove di 4-4-2 per Nicola in allenamento e intanto arriva dalla Spagna un nuovo tecnico aggregato allo staff della prima squadra. Buonasera e ben ritrovati con informazione su Telefriuli. 150 gare alterate in appalti per la realizzazione di grandi opere pubbliche. La Guardia di Finanza sta eseguendo in quest'ora decine di perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Tra le stazioni appaltanti finite nel mirino il commissario per l'emergenza dell'A4, Autovie Venete e Autostrade per l'Italia. Una maxi operazione della Guardia di Finanza in corso nel nord-est e in tutto il territorio nazionale su appalti truccati per opere pubbliche per oltre un miliardo di euro. Perquisizioni e sequestri sono stati disposti dalla Procura di Gorizia in decine di enti pubblici, società, abitazioni di persone sottoposte a indagini. Le procedure di affidamento oggetto dell'inchiesta riguardano manutenzione e costruzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, cavalcavia, sottopassi, gallerie, piste aeroportuali, edifici, opere fluviali di sistemazione idraulica, acquedotti, gasdotti, ancora opere maritime, lavori di dragaggio, impianti di bonifica e protezione ambientale. Severebbero 150 le gare d'appalto alterate tra i reati per cui si procede ci sono associazione delinquere, turbativa d'asta, frodi nelle pubbliche forniture, appalti in violazione di legge e concussione. Le fiamme gialle e isontine stanno acquisendo e sequestrando atti e documenti in numerose stazioni appaltanti, tra le quali figurano il commissario delegato per l'emergenza dell'A4, autovie Venete, autostrade per l'Italia, Friuli-Venezia Giulia strade, Veneto strade, Anas, concessioni autostradali Venete, aeroporto Friuli-Venezia Giulia, la regione Friuli-Venezia Giulia competente per le opere di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione di porti, approdi, marittimi e per le concessioni di ghiaia. E ancora autorità di sistema portuale del mare adriatico orientale, società deputata, la gestione del porto di Trieste, Consorzio per lo sviluppo economico del Monfalconese competente sul porto di Monfalcone. Ciò che emerge dalle risultanze istruttorie non sono solo le decine di turbative d'asta tra le imprese coinvolte per effetto di pratiche collusive, ma anche un pericoloso fenomeno di frode nella realizzazione delle opere appaltate, con lavorazioni eseguite utilizzando talvolta materiali non certificati, di formi da quelli dichiarati e in quantitativi inferiori rispetto a quelli richiesti e fatturati. Oltre 100 gli indagati, numero che potrebbe crescere ancora, diverse le aziende friulane perquisite che secondo gli inquirenti si accordavano tra loro per vincere gli appalti in maniera illecita. Abbiamo potuto constatare un nucleo di imprese in parte friulane, in parte venete, che in qualche modo hanno organizzato un sistema per spartirsi tra di loro gli appalti in zone rientranti nel Triveneto e poi in altre zone del territorio nazionale operavano sempre questo gruppetto di imprese stabili aggregando di volta in volta poi delle imprese locali che materialmente erano quelle che poi realizzavano i lavori al di là di chi si fosse aggiudicato l'appalto in questione. Nella maxi inchiesta delle fiamme gialle sono diversi, numerosi gli indagati. Al momento sono circa un centinaio, ovviamente l'indagine è ancora in corso, si dovrà fare poi il riepilogo della situazione in base agli elementi che saranno acquisiti anche all'esito delle attività odienne e quindi è un numero assolutamente suscettibile di modifiche. Sono indagati anche per alcuni appalti soggetti delle stazioni appaltanti o comunque riferibili ai committenti che avrebbero dovuto controllare e secondo il nostro modo di vedere non hanno controllato quindi sostanzialmente direttori dei lavori e o RUP delle singole procedure di appalto. Una metastasi così il comandante della guardia di finanza del figlio di Venezia Giulio Giuseppe Bottillo ha definito il sistema di corrutele di illeciti oggetto dell'inchiesta sugli appalti. Il comandante ha usato anche il termine indignazione perché quando si altera la libera concorrenza si crea un danno enorme in quanto vincono sempre gli stessi e le imprese oneste vengono escluse, è un sistema in cui il cittadino paga le tasse e poi paga anche in termini di incolumità, di pedaggi e altro e dell'assenza di infiltrazioni mafiose. Allora è ancora più grave questo fenomeno, significa che è sufficiente quello che esiste, persone che si riunivano a tavolino per spartirsi le gare. Infine un'altra pista di indagine è il danno ambientale causato dall'illecito smaltimento di rifiuti ha concluso. Siamo assolutamente fiduciosi nel lavoro della magistratura e consapevoli per quanto ci riguarda di aver ben operato. Con queste parole il presidente di Autovie Venete Maurizio Castagna commenta l'indagine grande tagliamento su una serie di appalti di opere pubbliche fra i quali anche alcuni tratti della terza corsia della quattro. La concessionaria riferisce di garantire massima disponibilità e collaborazione nei confronti della magistratura per quanto riguarda l'indagine. Gli uffici di Autovie Venete, si legge in una nota, hanno fornito tutta la documentazione richiesta dagli inquirenti. In relazione all'operazione Grande Tagliamento, l'aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa risulta essere parte lese ed è a completa disposizione delle autorità competenti. L'aeroporto Friuli Venezia Giulia metterà a disposizione della Procura di Gorizia tutta la documentazione richiesta per una pronta risoluzione dell'indagine a tutela degli interessi di una così importante infrastruttura del territorio. L'aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa in una nota. Concessioni autostradali Venete SPA precise di risultare parte offesa nell'indagine come peraltro riportato nel decreto di acquisizione di documentazione afferente alcune gare d'appalto in particolare per manutenzioni del passante di mestre. Naturalmente, spiega la Presidente Luisa Serato, CAV, offrirà la più ampia collaborazione agli organi inquirenti fornendo tutta la documentazione richiesta e le informazioni del caso. L'assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti e i dipendenti della regione hanno dato massima disponibilità agli agenti della finanza quando si sono presentati questa mattina negli uffici per acquisire documentazione utile all'inchiesta. È un'inchiesta che ovviamente non ci aspettavamo niente, soprattutto stupisce la vastità dell'inchiesta perché parte da Friuli e arriva fino in Piemonte, quindi una cosa molto vasta, molto grande, di cui non sapevamo e non avevamo nessun sentore ovviamente. Stamattina la prima cosa appena successo gli uffici mi hanno chiamato, mi hanno informato che c'era la Guardia di Finanza presso il nostro assessorato e noi abbiamo dato massima disponibilità sia di persone, io ho fatto dare massima disponibilità sia di persone che di documentazione perché è giusto così, è giusto che la magistratura faccia il suo dovere, il suo corso e dopo di che ovviamente gli uffici sono tranquilli ma penso anch'io anche se sono fatti ovviamente di tanti tanti anni fa, di cui io solo ho visto gli effetti più che la procedura. Siamo disponibili in qualsiasi momento, su qualsiasi cosa. Chiaro che noi speriamo che vada tutto a buon fine e quindi siamo fiduciosi. Da quello che ho saputo mi pare è un'inchiesta molto grande, molto vasta, quindi di grande portata anche per il numero delle persone che sono state coinvolte, quindi fa scalpore anche per questo. C'è preoccupazione per quanto sta accadendo, Fedriga informi quanto prima il Consiglio e la popolazione. Così i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Laria Dalzovo e Cristian Sergo in merito all'operazione Grande Tagliamento sugli appalti pubblici. I consiglieri pentastellati chiedono che Fedriga riferisca in quanto presidente di una regione coinvolta per le sue partecipate e competente per le opere di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione dei porti e degli approdi marittimi, nonché per le concessioni di ghiaia. Al presidente ricordano i 5 Stelle e poi commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4, tratto Venezia-Trieste e il raccordo Villesse-Gorizia. Negli ultimi 5 anni, dice Sergo, sono stati molti gli atti presentati in regione che riportavano fatti e circostanze molto simili a quelle che leggiamo oggi sui giornali. A seguito di quelle notizie avevamo chiesto alla Giunta la verifica degli appalti eventualmente coinvolti delle opere realizzate e degli eventuali danni alla nostra istituzione da tutto questo. Ora, mentre le indagini proseguono il loro corso, si chiarisca e lo si faccia in fretta, concludono. La conformità dei materiali, la sicurezza delle infrastrutture e la regolarità degli appalti di questa regione rimangono la vera priorità. Non sarebbe accettabile che per gli interessi illegali di pochi a rischiare fossero i nostri cittadini. L'inchiesta preoccupa anche il Centro Italia, ancora alle prese con la ricostruzione post-terremoto. La magistratura faccia il suo corso e verifichi attentamente tutti gli appalti che ritiene opportuno. A patto che non vada ad appesantire il già lento processo di ripristino e ricostruzione della rete viaria interessata dal terremoto del 2016. Lo ha detto a Lanza il sindaco di Inorcia, Nicola Alemanno. Tra le gare d'appalto nel mirino, quelle relative a tre strade umbre danneggiate dal sisma. Non conosco gli elementi che hanno suggerito l'apertura dell'inchiesta, ha aggiunto Alemanno, ma se questo dovesse in qualche modo influire sui cantieri che già di per sé stanno procedendo troppo lentamente per i nostri territori sarebbe l'ennesima pesante tegola da dover gestire. La procura di Gorizia ha comunque assicurato che per le opere oggetto di indagine non ci sono provvedimenti di blocco o sequestri di cantieri di lavori. La concorrenza sleale danneggia le imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia. Secondo un'indagine della Confcommercio a soffrire ne sono almeno 7 su 10. In Friuli Venezia Giulia 7 imprese su 10 del settore terziario sono state danneggiate dalla concorrenza sleale. È quanto emerge dalla ricerca osservatorio sulla legalità in Friuli Venezia Giulia l'opinione delle imprese del terziario realizzata dalla Confcommercio regionale in collaborazione con Format Research in occasione della giornata nazionale Legalità Mi Piace. Dall'indagine effettuata tramite 400 interviste telefoniche tra il 7 e il 14 novembre del 2018 risulta che i più colpiti sono gli operatori del commercio e del turismo e che il 72% delle imprese giudica ancora non efficaci le leggi di contrasto. Inoltre tre imprese su quattro ritengono che il fenomeno sia in progressiva crescita. Il 64% delle imprese, soprattutto nel settore del commercio, dichiara di essere stato danneggiato dall'azione dell'illegalità almeno una volta in passato. Nel 68% dei casi si traduce in concorrenza sleale. È temuto prevalentemente dalle strutture ricettive e in generale dagli operatori di dimensione più piccola fino a nove addetti. L'azione dell'illegalità comporta una riduzione dei ricavi per il 25% delle imprese, un incremento della spesa per i servizi di videosorveglianza al 10%, la rinuncia all'assunzione di nuovi addetti a causa delle difficoltà nel sostenere i costi, 8%, la perdita di appeal dell'impresa, 5%, la perdita di appeal dei prodotti e servizi erogati dall'impresa, il 3%. Circa l'88% degli esercizi commerciali del Friuli Venezia Giulia giudica invariato il fenomeno del taccheggio negli ultimi 12 mesi. Il 12% nota invece un incremento soprattutto nelle imprese delle commercio al dettaglio più strutturate con un numero di addetti superiore a 49 unità. Il taccheggio pesa il 3,5% sul totale dei ricavi degli esercizi commerciali. Un morto e due feriti gravi, questo è il bilancio di due incidenti accaduti oggi in autostrada in A4. Ancora un incidente stradale mortale in A4 tra San Giorgio e La Tisana in direzione Venezia. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Palmanova un furgone ha tamponato un autotreno. Nel violento impatto un uomo di 63 anni, Antonio Bossan, residente in provincia di Padova, è rimasto schiacciato in cabina ed è deceduto sul colpo. Viaggiava su un camioncino guidato da un collega, anche lui veneto, di 40 anni, che nello schianto è rimasto ferito in maniera seria trasportato all'ospedale di Udine con l'elicottero sanitario. L'autostrada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi da parte dei pompieri di Cervignano e del personale di Autovie Venete. L'A4 è stata riaperta nel primo pomeriggio a distanza di quattro ore dal tamponamento. Altro grave incidente è sempre in A4 ma in direzione Trieste tra Villessere di Puglia. Un furgone condotto da un uomo di 46 anni di Fagagna e pile su iniziali è finito contro un autotreno in sosta e nell'impatto il conducente è rimasto ferito in maniera molto grave. È stato ritrasportato in ospedale a Trieste, per lui la prognosi è riservata. Sul posto la polizia stradale e i pompieri di Gorizia. Paura a Reana del Royale per un'auto che si è incendiata improvvisamente dopo essere stata posteggiata di fronte a una pasticceria e un negozio per animali nel polo commerciale di Via Nannino. Il rogo ha distrutto completamente la vettura ed è scoppiato non appena la proprietaria è entrata in negozio. Le fiamme sono state domate ed è vigile il fuoco, nessun ferito. I carabinieri di Rivignano hanno eseguito un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare di veto di avvicinamento emesso dal Tribunale di Udine nei confronti di una 37enne del posto per maltrattamenti contro i familiari. Denunciato poi per appropriazione in debita un 53enne di Gemona che con la scusa di provare una moto Honda è fuggito con le due ruote del valore di 6.000 euro. È stato fermato dopo poco in sella al mezzo dai militari dell'arma di Buia. A San Giovanni infine i carabinieri hanno pizzicato una trentenne che aveva rubato una bici molto costosa a una donna poi restituita alla proprietaria. Sono più di 200 le frane censite nel comune di Tarcento, 3 milioni a disposizione per la messa in sicurezza del territorio, una burocrazia che su alcune opere è soffocante. Abbiamo fatto il punto con il sindaco Steccati. Qui c'è un problema che fa riferimento alle molte frane. Sì, è vero. Il comune di Tarcento insiste su un territorio che è alto rischio di dissesto idrogeologico. Pensi che dagli anni 70 in poi sono censite e sono valorate oltre 200 frane. Per dire la verità, questa volta, se ci riferiamo agli eventi del 28 ottobre scorso, per quanto riguarda le frane il comune di Tarcento è stato graziato, nel senso che non abbiamo avuto eventi significativi. Consenta 200 frane, i fenomeni sono monitorati, ce ne sono anche diattive? Sì, ce ne sono diattive, ce ne sono diattenzionate e ce ne sono alcune su cui si è già intervenuti e altre su cui stiamo intervenendo e altre ancora su cui stiamo progettando. Ovviamente ci siamo mossi in linea con quanto stabilito negli anni dall'amministrazione precedenti. Dobbiamo sapere che c'è un piano di ripristino frane molto consistente dal punto di vista finanziario. I fondi derivano tutti dalla Direzione dell'Ambiente o dall'Assessorato dell'Ambiente oppure anche dall'Assessorato della Protezione Civile. Ci sono cifre importanti? Sì, diciamo che in questo momento possiamo contare su circa 3 milioni di euro. Siamo intervenuti, già questa amministrazione è intervenuta su alcune frane a Sedilis e adesso abbiamo cantierato un intervento nella zona di Coglia, molto delicata, e uno è sempre nella zona di Coglia e in via di appalto. Ecco, senta, concludendo, la burocrazia non aiuta? Beh, questo sì, ormai è diventato un leitmotiv per tutti i lavori pubblici. Siamo veramente soffocati da una marea di pratiche. Quando vogliamo intervenire noi per primi, ma i cittadini ancora più di noi, vorrebbero vedere come ci suol dire iniziare i lavori subito, invece dobbiamo perdere mesi, mesi, anche anni, per ottenere le autorizzazioni per progettare. Ci sono tre gradi di progettazione, non dimentichiamoselo, e poi anche notevoli burocrazia per quello che riguarda tutta la disciplina che norma gli appalti. A Udine scatta il piano neve, sono 380 i chilometri di strade urbane da trattare in caso di neve e ghiaccio. Con l'arrivo della stagione fredda, il comune di Udine attiva il piano neve e ghiaccio. Incrementate le dotazioni con notevole quantità di mezzi e risorse che garantiranno la percorribilità della rete cittadina principale, la sicurezza in punti critici, rotonde, cabalcavia e l'accessibilità a luoghi sensibili, uffici, ospedali, servizi e scuole. Il piano neve articolato è innovativo, mette a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oltre 20 mezzi per spargere il sale e spazzare la neve sulle strade, pronti a partire in contemporanea entro 29 minuti dalla chiamata. Questo grazie a un appalto affidato a due ditte esterne, disponibili 4 squadre per un totale di 8 persone adibite al trattamento degli accessi di scuole, uffici, chiese e servizi. I punti sensibili gestiti a mano dalle cooperative sono 150 e tra questi ci sono per la prima volta anche le scuole primarie e secondarie di primo grado, in passato curate solo dal personale scolastico, 380 ai chilometri di strade urbane da trattare in caso di neve e di ghiaccio. I cittadini sono invitati ovviamente a rimuovere da soli per quanto riguarda la neve e il ghiaccio, è questo che noi sollecitiamo le persone a salare le parti prospiacenti e le proprie abitazioni, i passi carrai, gli edifici e tutti i negozi, in modo da evitare pericolosi scivolamenti che sappiamo benissimo possono procurare anche delle fratture ad esempio. Il 24 novembre ritorna la colletta alimentare, in provincia di Udine saranno impegnati 5.000 volontari. La giornata della colletta alimentare in programma il 24 novembre è una vera e propria corsa alla solidarietà. Sono quasi 10.000 infatti i volontari che presidieranno 799 punti vendita, dei quali 434 in Friuli, Venezia e Giulia e 365 nel Veneto orientale. In particolare in provincia di Udine, dove le strutture convenzionate sono 140 e le persone assistite sono 16.000, hanno risposto alla chiamata del Banco Alimentare quasi 5.000 volontari, tra i quali componenti di gruppi associativi e studenti delle scuole superiori con i loro insegnanti. Quest'anno ci siamo dati l'obiettivo di raccogliere 16 milioni di pasti in un solo giorno, dichiara Andrea Giussani, presidente della Fondazione del Banco Alimentare Onlus, visto che nel 2017 in Italia si è toccato il numero più alto dal 2005 di individui in povertà assoluta, oltre 5 milioni secondo l'Istat. Nel 2017, grazie all'efficiente rete logistica dei 21 magazzini locali di cui si compone la rete del Banco Alimentare, sono state distribuite oltre 91.000 tonnellate di cibo. Chiediamo a ognuno di fare la propria parte, continua Giussani, donando gli alimenti richiesti che ci consentono d'offrire un paniere equilibrato ai tanti beneficiari che una spesa non se la possono permettere. Quest'anno, per intercettare e coinvolgere il maggior numero di persone, il Banco Alimentare si è organizzato anche per la raccolta attraverso la spesa online sulle piattaforme di alcune grandi catene di distribuzione. È stata presentata oggi la 53esima edizione di Agriest. L'agricoltura scende in campo da protagonista con la 53esima edizione di Agriest che dal 24 al 27 gennaio 2019 occuperà l'interare espositiva di Udine Fiere. Riconfermata la collaborazione e la presenza della Regione con l'assessorato alle risorse agroalimentari, forestali e etiche, la direzione centrale, l'ERSA. È prevista la partecipazione di 250 espositori nei settori della meccanizzazione, tecnologia e innovazione, salvaguardia dell'ambiente e sicurezza. Oltre il 95% degli visitatori sono adetti ai lavori e i visitatori che vengono non arrivano solo dal territorio regionale ma arrivano anche da Austria e Slovenia e quindi vuol dire che l'interesse per questa manifestazione che è biennale, ricordo, è estremamente conosciuta ed è ritenuta particolarmente interessante per le macchine e per quanto di tecnologia viene esposto. Assessore, presentiamo Agriest, quanto sia importante per la Regione una fiera di questo tipo? È importante sia dal punto di vista delle edizioni, quindi un appuntamento ormai storico e consolidato, è importante perché comunque i vertici a livello nazionale come fiera di settore e questo non è da poco in una Regione come il Friuli Venezia Giulia, ma specialmente è importante per poter portare anche a conoscenza degli operatori di tutte quelle innovazioni anche di tipo tecnologico e di nuove possibilità di intervento in agricoltura che sono indispensabili per un futuro delle nostre imprese. Nuova record di presenze a Udine per la staffetta Teleton 24 per un'ora, 550 alle squadre per la ventesima edizione della Corsa Solidale a favore della ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare. Sold out per la staffetta Teleton 24 per un'ora che dalle 15 di sabato 1 alla stessa ora di domenica 2 dicembre farà muovere il cuore di Udine a passo di corsa e solidarietà. Si sono già chiuse con diversi giorni di anticipo le iscrizioni per l'edizione numero 20 della manifestazione che ha raggiunto il tetto massimo di 550 squadre, in posto per garantire a tutti di prendere parte l'evento benefico in sicurezza. Presenze record che fanno ben sperare il comitato udinese staffetta Teleton guidato da Marco Decker. L'iniziativa diciamo si fonda proprio su questo tipo di situazioni, di aziende, di istituzioni del territorio che contribuiscono in ragione della copertura delle spese dell'iniziativa e tutto quello che si raccoglie dai partecipanti per l'essere parte di questa manifestazione viene devoluto a Teleton. Quindi questo è lo spirito della nostra iniziativa e io seppur in ruoli diversi ci ho sempre partecipato. Sindaco, una nuova edizione da record per la staffetta e sappiamo quanto sia importante la partecipazione di tutti. Sì, questa è una grande corsa che ormai da anni si fa qui in città e c'è una partecipazione veramente incredibile. Io sono molto contento che ci sia questo entusiasmo che continua a favore di coloro che corrono, che fanno attività fisica ma poi c'è lo scopo molto importante. I fondi vengono dedicati alla ricerca, a queste malattie rare, quindi un grosso contributo perché le somme che vengono ricavate con il contributo di chi partecipa sono veramente grandi. Siamo allo sport. L'Udinese con il neotecnico Nicola prepara la sfida contro la Roma e lavora su un 4-4-2. Si lavora in vista a Roma e nella seduta di oggi, mister Nicola ha potuto impiegare alcuni reduci dalle nazionali tra i quali Struger Larsen. Nella partitella a campo ridotto con alcuni elementi delle giovanili, il danese è stato schierato nuovamente esterno a destra nella difesa a 4, il ruolo che ha interpretato più spesso. In attesa del rientro di tutti i giocatori assenti in questa pausa di campionato, gli ultimi ad entrare saranno Depol e Macis. Il nuovo allenatore continua a sperimentare per conoscere bene tutti i giocatori a sua disposizione. Oggi, in un ipotetico 4-4-2 ha schierato Larsen, Knighting, Samir e Pezzella in difesa, Teraves, Fofanam, Andragola e Pontisso in mediana, Viseu e Pussetto in attacco. Come aveva annunciato sin dall'inizio, Nicola si dedica molto ai singoli nella postura e a nozioni di tattica e al termine della seduta di oggi si è fermato con Opoco e Pezzella, ripetendo con entrambi alcuni movimenti e posizionamenti anche del corpo in fase difensiva. Ad oggi quindi ipotizzabile una difesa a 4 per la partita contro i giallorossi. Quel che è certo è che Nicola vorrà dare una mano a Kevin Lasagna. Non è andata per lui nei migliori dei modi la prima volta da titolare in azzurro. È stato schierato ieri sera dall'inizio da Mancini nella partita contro gli Stati Uniti, vinta grazie a una rete nel minuto di recupero di Politano che è entrato proprio al posto di un lasagna impreciso e che non è riuscito a incidere. Giudizi negativi per lui oggi sulla stampa, 4 e mezzo da Gazzetta e da Tutto Sport e 5 dal Corriere dello Sport. Seduta a matutina anche per la Roma di Di Francesco, allenamento che ha visto lavorare a parte dei rossi, Manolas e Perotti differenziato per Gekko e Schick che potrebbe avere una chance proprio a Udine. E parliamo ancora di Udinese perché a Udine arriva un nuovo allenatore. Non si tratta di una bufala né di un esonero troppo precoce. L'annuncio arriva direttamente dal Deportivo La Corugna. Luis Bonilla, fino ad oggi allenatore dei cadetti A che militano nella divisione de honor, passa all'Udinese. Inizialmente si era ipotizzato un suo ruolo nelle giovanili, ma si è saputo in seguito che sarà aggregato allo staff della prima squadra. Sarà un tattico messo a disposizione della società in aggiunta dello staff del neotecnico Nicola. Puntata speciale oggi di Screenshot con Davide Vicedomini. Il suo ospite sarà il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Sarà l'occasione per tracciare i primi mesi di bilancio da inizio del mandato del primo cittadino. Appuntamento quindi alle 19.45 con Screenshot. Grazie per l'attenzione. L'informazione tornerà da Pordenone alle 20.45. Buona serata. Collegati a telefriuli.it per seguirci in streaming e per rivedere tutte le trasmissioni. Per le notizie in tempo reale, ilfriuli.it e udineseblog.it. Continua a seguirci anche sulle nostre pagine social. Grazie a tutti.